Popolo rossonero, popolo del bandito, buona domenica 31 di dicembre, ultimo giorno dell'anno. Chiudiamo l'anno con una vittoria, una vittoria che sicuramente dal punto di vista del gioco non ci lascia, diciamo, grandi ricordi, non ci lascia grandi aspettative per il breve periodo, però è nata in un contesto difficile, complicato, per cui direi si possono trarre alcuni aspetti positivi da questa partita. Prima lasciatemi ringraziare Enzo Rosio e Giuseppe Riefolo, i nuovi abbonati, vi invito a vedere la live di ieri, anche perché dalla segna stampa di questa mattina si sottolinea praticamente su tutti i giornali questi fischi allea, o sembra che San Siro abbia fischiato allea, io vi devo dire la verità, non li avevo nemmeno percepiti, dalla curva sicuramente non è partito nessun fischio, proprio neanche uno, ma non avevo percepito neanche gli altri, sinceramente, di fischi, probabilmente arrivavano dalla zona rassegna stampa, dove si siedono tutti loro, e ecco però mi sembra, seppur Leao si prende un bel 5 da me, perché non mi è piaciuto per niente, ma da qui a farne un caso, è ovvio che ogni vittoria del Milan deve essere coperta da un qualcosa di negativo a prescindere, quindi questa volta sarà Leao, vedrete che se ne parlerà per giorni, adesso saranno i servizi televisivi su fischi che sinceramente io che ero là erano così copiosi che manco ho percepito. Immagino poi che siano anche arrabbiati, che siano un po' nervosi per i meno due della Juve, per la Juventus, per il pareggio sgraffignato a Genova, a Genova, col Genova, quindi immagino che siano un po' arrabbiatelli i nostri amici della stampa. Un like al video se vi va, guardate la live di ieri, iscrivetevi, manca poco a 10.000, forse ce la facciamo già per oggi, e campanella per le notifiche, datemi una mano e facciamo crescere questo canale, grazie. Allora, partiamo dalla segna stampa, col giornale Rosa, fornitore ufficiale della squadra più indebitata del mondo, tra l'altro ho visto un video ieri che mi ha fatto impazzire, un video, ho riso per mezz'ora, ma lo trovo meraviglioso, poi se riesco lo metto nel video di oggi, anche citando chi l'ha postato, perché merita un video, vediamo se riesco a metterlo oggi. Dicevamo, fornitore della squadra più indebitata al mondo, quel presidente attualmente, Desaparecidos. Special Juve, meno due, dall'Inter. Quanto pesa Lautaro? aaaah, 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 cazzetta dello sport, pesano le assenze, aaaah, aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Dopo soprattutto le parole senza alcun senso di acerbi che soffrono psicologicamente in una maniera terribile la Juventus, in fondo loro hanno sempre voluto essere la Juventus, sono riusciti, alla fine ci sono riusciti, però la soffrono in una maniera terribile dal punto di vista psicologico. Quindi questa seconda stella di cartone è ancora lì, non è stata ancora assegnata. Il Milan risale, Leao no e si sottolineano ovviamente i fischi che, poi invito chi sui social attacca la curva per avere fischiato Leao, ho letto alcuni commenti e ragazzi non è così, mi spiace, non è così, quindi fatemene la ragione. La curva ieri ha sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto anche nei momenti come l'inizio del secondo tempo in cui eravamo in difficoltà, sempre. Tutto sport, buon anno Juve, ovviamente si prende tutta la prima pagina, la vittoria della Juventus su Mourinho. Abbiamo poi Corriere dello Sport, capelli fluenti, ballando con le stelle, libera e bella. Abbiamo Special 1, riferito a Allegri che con i suoi 1-0, con la difesa a cui sembra impossibile fare gol, è lì a lottare. Pulisic, il salva Pioli, poi ne parliamo di Pulisic, adesso nelle pagelle ne parliamo. Abbiamo anche Quotidiano Sportivo, ci pensa Rabiot, Pulisic, Gor per Pioli, fischi a Leao. Ecco, tutti i giornali, la costante è sottolineare questi fischi a Leao, che sono stati pochi, però questo non vuol dire che non si debba dare una svegliata al ragazzo, perché anche ieri sera è stato piuttosto negativo. Allora passiamo alle pagelle, passiamo alle pagelle di ieri, con Mike che si prende ovviamente un bel 7, un bel 7 per la parata su Berardi, ma perché le uscite, le parate a terra, sicurissimo, sicurissimo in ogni situazione, è sempre pronto a incitare i compagni, a dirigere i compagni. Quindi Mike 7, Calabria 6 e mezzo, Calabria 6 e mezzo, mi è piaciuto più il secondo tempo del primo, comunque il secondo tempo ha spinto, ha fatto anche qualche chiusura, quindi 6 e mezzo. Kear 6 mi sembra ancora un po' in difficoltà dal punto di vista fisico, ma a questo ne parliamo perché tutti mi sono sembrati in difficoltà dal punto di vista fisico, a partire dal sessantesimo in avanti, come al solito. Teo 7, buona partita dietro, si vedeva che era in una di quelle giornate in cui si sente la sua personalità, quindi meno male. Teo 7, se non abbiamo preso gol, è molto merito della prestazione di Teo. Florenzi 6 e mezzo. Florenzi sta giocando tanto, anche più di quello che probabilmente si aspettava lui, ci aspettavamo noi, e che forse il suo fisico gli consente. Però ieri era tonico, era tonico, buona partita. Benassert 7, finché è stato in campo, è stato il migliore. È stato l'ideatore geniale del gol insieme a Pulisic, con quella palla filtrante, nel primo tempo in quella posizione un po' più alta, diciamo da mezz'ala, da mezz'ala destra. Anche se ieri il modulo era un po' una sorta di 5-5, o meglio 4-1, 4-1. Il modulo era un po' questo. E lui agiva più alto, ma peccato, peccato che debba partire. Anzi, sarà già partito, perché rimarrà Ciucu per giocare in Coppa Italia, ma non Benassert. Ci mancherà tantissimo. Reinders 6,5, primo tempo avrebbe preso 7, secondo tempo un 6 stiracchiato, quindi la media 6,5. Diciamo però che è guai se dovesse mancare Reinders. Anche perché Krunic è proprio sparito dai radar completamente. Io credo che Krunic a sto punto debba andare sul mercato, perché noi siamo talmente corti a centrocampo che uno disponibile a giocare ci serve. Quindi credo che sia un'operazione da fare al più presto. Loftus 5,5 mi sembra in grandi difficoltà fisiche, e questo, ripeto, è un problema di cui dobbiamo parlare. Pulisic 7, perché davanti è il più vivo, il più presente, il più pericoloso, quello che non tradisce mai, e il gol, sottolineo la pregevolezza tecnica, perché una buona parte di attaccanti, almeno 8 su 10, avrebbero sparato contro il portiere, perché il portiere era uscito bene, aveva pochissimo spazio, ma la pulizia tecnica e l'intelligenza di Pulisic Pulisic hanno fatto sì che alzasse il pallone, lo colpisse in una maniera da alzarlo quel tanto per superare la sagoma del portiere. Un gol assolutamente non banale, sia per il movimento, sia per l'esecuzione. Quindi Pulisic è uno di quegli acquisti di cui chissà perché si parla poco, viene anzi definita una campagna acquisti negativa, io invece dico che Pulisic è un grande acquisto. Giro 5, perché mi sembra proprio fermo dal punto di vista fisico, mi sembra proprio... sarei partito con Jovic sinceramente. Leao 5, abbiamo già detto, altra prestazione negativa, ma da qua a dire di questi copiosi fischi ce ne passa. I subentrati, abbiamo Simic 6, perché abbiamo giocato poco, Adli 5,5, non mi è piaciuto Adli quando è entrato, è entrato troppo compassato, è entrato troppo macchinoso, non lo so, non mi è piaciuto, tra l'altro ha fatto un retropassaggio pericoloso in cui abbiamo rischiato, non mi è piaciuto. Zeroli, Zeroli un 6 perché ha giocato poco, Jovic 6 perché è entrato in un momento della partita in cui noi abbiamo rinunciato, ci si è messi lì semplicemente a cercare di non prendere gol, e Ciucu 6, peccato perché su quella palla di sinistro, messa sul secondo pallo, avrebbe potuto chiudere la partita. Pioli, Pioli 6, 6 perché ha dimostrato quantomeno di avere la squadra dalla sua parte, perché se la squadra l'avesse voluto ieri lo faceva fuori, metaforicamente ovviamente, però siamo ancora lontani da un gioco bello, da un gioco vincente, siamo molto lontani da una condizione fisica brillante. Ecco, chiudo con questo. Innanzitutto con un commento che mi è piaciuto, che bisogna apprezzare e applaudire questi ragazzi, perché malgrado una dirigenza che è, insomma, diciamo quantomeno inesperta, malgrado un allenatore e uno staff atletico che direi sono da mettere sul banco degli imputati, sono saldamente al terzo posto, insomma, malgrado tutto questo, diciamo che forse il problema non è proprio nella qualità di tutta la rosa, che anzi, secondo me è sottovalutata, ed è sicuramente sfruttata meno di quello che potrebbe essere sfruttata. Ditemi la vostra cosa ne pensate nei commenti. Sottolineo, chiudo solo con un, poi vi lascio con una considerazione che ho avuto ieri sera direttamente dallo stadio, di una condizione atletica che non va bene, non va bene, siamo in una condizione atletica disastrosa, e l'Off2Cheek ne è la più fulgida dimostrazione, ma tutti, tutti dal sessantesimo hanno dato la sensazione di non riuscire a essere brillanti atleticamente. Questo è un problema, ma è un problema che poi probabilmente ha portato anche a tanti infortuni. chiudiamo il 2023 così, con qualche perplessità, ma con una vittoria, quindi speriamo che il 2024 ci regali tante gioie, ma gli auguri ce li facciamo dopo, nel video del pomeriggio, poi ci sarà occasione domani di farceli. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi, manca poco ad arrivare ai 10.000, magari ci riusciamo per stasera. Campanella per le notifiche, forza Milan sempre, no, non lo posso dire, quello non lo posso dire, magari però lo dirò, niente, sempre, forza Milan sempre, e sempre, ciao!